Un dungeon, un dungeon, cosa buonissima Sto trovando una roba tremenda Veniamo qui Tutta starobica Ok Quanto ferro qui sta trovando Quanto ferro qui Ah guarda un po' su Ed agro Ok Abbiamo pensato tutto qui No Testati in Ora qui Tutta la robica dal dungeon Cavola ma un incantico Mannaggia Allora devo buttare questo Prendo qua Poi Butto qua e mi prendo il ferro Anzi sapete che faccio Venuta un'altra idea Cavolo ma da cavolo ho messo No No Non ho raccolto il tavolo da Devo creare un altro Anzi aspettate Tutto Si Insertare il glegt metto qui la farmacia, metto a cuocere tutto il ferro ferrico, quanto ferro tutta tutta, allora questo lo mollo qui 3 questo 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 qui ci entra ancora se delle attività non parlo non parlo non parlo non parlo non parlo un power puttom piccana Aspettate, ci faccio i panini, così raccoglio i panini, questo lo lascio qui. Che difficoltà, che difficoltà è, questo non mi serve, riprendo qui, questo non mi serve, questo, poi, 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 questo lo lascio qui, mi prendo questo, mi sto pieno come un borcio, aspettate, aspettate, se vi conto ne mancano 29, ho voglia, eccomi chi, devo cercare di fare una borsa, ah che cavolo però, non c'ho la lana, ne ho un cesto portale, che c'è, no, com'era quella cesta, no, un cesto, no, un cesto, no, un cesto, no, un cesto, no, eccomi, questo qua, alchemy chest, back, alchemy chest, ok va bene, dopo vediamo, un cesto, ok, 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 ok o sedia ma anche questo posso lasciare non prendo posso fare così con la pala così e così da una sola e ci metto poi posso lasciare col piccolo posso fare così e così mi dà questa ok prendiamoci tutto ogni tempo ci vuole perchè c'è tutto sto ferro ok i cristalli non li posso lasciare la signora nemmeno la grave la grave la posso lasciare mi prendo adesso mi prendo proprio l'esterno ok questo non mi serve e qua mi serve solo quest'altro ok qualche nefatti 5 arrivo appena con tutto tutto il ferrico ok a fine di cuocere tutto cavolo mi si dimenticato un posto per il carbone ho trovato questo prendiamo questo poi lasciamo tutto non si mettiamo un punto ci schiena cesto ok ecco direi di ritornarmi a casa ma che ecco sto andando vai se riesco a prendere ancora della roba la bella ecco qua ecco qui ecco qui vediamo vediamo lasciamo stare lì ok non è anche questo qua e non è più e darmo vai ok non era di lì non è di qui non è di qui di che qui è il Minecraft il capriera sono zombi ok ecco qui la cesta no anzi lascio lì la cesta anche stiamo per uscire i vivi 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 vi siano i bigetini eccoci chi ci mettono un altro cosetto ci scrivo caverna no caverna ok ecco ok dove sta casetta nostra bastardo che cazzo vuoi muori muori oh bravo che cazzo? diventano? boh andiamo alla cazzo che cazzo sta andando ecco 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 tembomigiano minecraft oh bravo bravo e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo e però poi lo scopriamo che cosa è quella cosa vai però era una cosa impossibile poi ce l'ho fatta maronna age però un po e anche da qui qui ok ma dove caspita sta la casa voglio andare orco cane cazzo di spavola dai sali ok ma minecraft sembrava scatti eccola dalla nostra casa scendiamo tutta sta robiccia eh eh io lo sapevo ok c'è una cosa impossibile veramente era impossibile ecco la casa ecco la casa che emozione return at home ok siamo a casa mamma mia è stato faticoso allora io metterei a cuocere questo ok ok questo è la questo lì ok quelle cose nuove che abbiamo trovato le mettere aspetta legna legna ok le mettere in una nuova cesta vai ecco la cesta ci prendiamo un po' di team team poi veramente ma ci sta trovando questo poi i cristalli dai dai a proposito e dai però ok allora c'è stato qua team intorno no non è così no non è così non è così no allora questo qua è strano è strano è strano ok mettiamo questo qui 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 ok questo è strano allora leggiamo un po' le ceste io voglio questa qua ok io voglio un altro tipo di cesta mmm prestavo allora questo qui col ferrico alla fine lo dovrei avere qui ecco si dovrebbe il input che lo mettiamo qui mettiamo a cuocere questo 1 2 3 5 6 7 8 mettiamo un altro po' un altro po' questo qui questo 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 lo mettiamo dall'altra parte poi c'è qui una cesta diversa ok mi serve l'indica ho tutto ah c'è questo questo il di monte posti di montesini poi io ciò questo questo iscrista nel metto pure questo proprio questo questo e questo pure ecco fatto faccio mettere pure queste cose strane la clay mi serve e la metterò qui clay e clay poi metterei a cuocere questo da prendere il carbone il maceratore sta lì questo l'ho fatto questo l'ho fatto questo l'ho fatto ci metto a cuocere la cuocere poi poi si sa cuocere tutto ok questo qui questo qui ok mettiamo questo qui questo qui quando sto ok 46 qui ok ok questo qui che devo fare mi ha scordato ah sì le mattonelle qui questa cuocere questa cuocere ok questo l'ho fatto metto questo questo ok ragazzi dico per questo let's play è tutto ci vediamo alla prossima ciao a tutti qui 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 qui